Seconda sconfitta esterna consecutiva per la studentesca vivere e viaggiare Licata che in trasferta non è ancora riuscita a rompere il ghiaccio. Al pala Santa Rosalia di Santa Croce matura un 82-77 che lascia parecchio rammarico ai ragazzi di Coacettore e Castorina che tornano a mani vuote malgrado i 39 punti messi a referto da un ottimo Crucitti. Il match è stato equilibrato per tutti i quattro quarti e solo nel finale la vigore è riuscita a piazzare lo strappo che poi va al suo l'affermazione finale. Parità pressoché totale nel primo vibrante parziale con la studentesca avanti di 1, 26-27. Vantaggio che si allarga leggermente all'intervallo quando i giallo blu rientrano negli spogliatoi sul 40-44. Dopo l'intervallo la prestazione della vigore lievita e alla mezz'ora il sorpasso è servito con i padroni di casa per la prima volta avanti nel match 63-61 a fine terzo quarto. L'ultimo segmento di match è una continua rincorsa per entrambi i team. Negli ultimi palpitanti secondi della sfida la studentesca paga anche l'assenza di Crucitti, out dopo aver commesso il quinto fallo e alla fine si arrende alla vigore che passa con uno scarto di 5 punti. In casa Licatese 39 punti per Crucitti, molto bene anche Falanga autore di 18 punti.